ciao ciao a tutti e benvenuti su archidei benvenuti in un nuovo video di questo avvento creativo questo è uno di quei video che non vedevo l'ora di fare perché è già da un po che avevo acquistato un barattolo a forma di sfera in vetro e volevo trasformarlo in una palla di neve anche se propriamente non metterò della neve all'interno e avete presente comunque quei souvenir gli snow globe che vendono in ogni località turistica io ne faccio collezione da diversi anni ma non ne avevo mai creato uno mio e da tiger nel mese di novembre ho trovato questo barattolo ho deciso di acquistarlo per provare a fare il mio snow globe la base su cui mettere la miniatura all'interno era davvero piccolina e quindi l'ho ottenuto per un po alli sul mio tavolo pensando ripensando a cosa infilare al suo interno finché non mi è venuta l'idea di metterci uno dei miei adorati ignometti con cui mi sono un po fissata ultimamente per cui prima di tutto ha modellato una pallina di pasta polimerica dandogli la forma di un cono e quello sarà il corpo del mio gnometto poi ho modellato la barba e all'inizio l'avevo fatto con un pezzo di pasta polimerica bianca un po grande quindi poi ne ho tolto una parte e l'ho modellata di nuovo e l'ho messa al di sopra del corpo vi ricordo che questi ignomi sono semplicissimi da fare perché tanto non hanno altre parti del corpo cioè basta fare semplicemente la parte sotto del corpo la barba il cappello e il naso e abbiamo finito per cui riusciamo a farli anche molto in piccolo visto che non c'è da scendere più di tanto nei dettagli adesso quindi faccio un po di incisioni con il retro della lama sulla parte bianca per fare un po di segni sulla barba in alcune parti li vado a cancellare con il pennellino in silicone e poi realizzerò il cappellino io non l'ho realizzato in colori natalizi perché voglio tenerlo in casa tutto l'anno e andrà poi in camera di mia figlia insieme agli altri pupazzetti che ho realizzato per lei però potete farlo anche con la forma di babbo natale in realtà basta semplicemente fargli il il vestito e il cappello rosso magari gli mettete una bella cinta nera prima di mettere la barba e quando fate il cappello invece di farlo a punta come quello degli ignomi potete farci sopra il pompon bianco e fare la fascia bianca sulla fronte per fare il cappello dovete modellare un altro cono poi fate un buco con il pennello in silicone all'interno di questo cono e poi iniziate a modellare tutta la falda del cappello facendo in modo che poi possa scendere sulla testa e sulla barba allungate la punta del cappello e arricciate alla fine l'estremità creando un ricciolino piccolino quindi appoggiate il cappello sullo gnomo e fate in modo che la parte centrale della falda quella sulla barba nella parte davanti rimanga un po sollevata perché adesso andremo a sistemare lì il naso fare il naso è semplicissimo ci servirà quindi una pallina di color rosa carne che poi taglieremo diciamo un po' meno della metà a seconda della dimensione della pallina e andremo poi ad appoggiare tra la barba ed il cappello facendo una leggerissima pressione adesso andiamo ad aggiungere delle decorazioni sul cappello io farò delle decorazioni semplicissime così potete seguire tutti il tutorial ma naturalmente se siete più bravi avete voglia di fare delle decorazioni più dettagliate verrà ancora meglio il vostro gnometto e io spero di trovare degli altri barattoli da tiger così da poter fare altri gnometti e magari farli un po' più dettagliati e per quanto riguarda il cappello andiamo prima a fare una serie di pieghe utilizzando un ago buca perle la parte laterale dell'ago ovviamente e poi scegliamo un colore di pasta polimerica contrasto per fare le decorazioni e ho tagliato prima un cuoricino con una formina mini camper proprio a forma di cuore e poi andrò a utilizzare ancora una volta questi cutter tondi super minuscoli con i quali vado a tagliare molto facilmente una serie di pallini che saranno i pua del mio cappello e prima quando non avevo questi strumentini per fare dei pallini tutti uguali facevo un rotolino di pasta polimerica molto sottile e lo tagliavo a fettine adesso con con questi aggeggini qui è tutto molto molto più semplice li ho acquistati su aliexpress e i riferimenti li trovate sul mio video acquisti di settembre ottobre più o meno con gli stessi aggeggini come li chiamo io vado a creare tutta una serie di puntini che rimangono incisi all'interno del cappello dell'ognomo perché alcuni di questi strumenti erano talmente piccoli che non riuscivano a tagliare i pezzettini di fimo sulla sfoglia di pasta polimerica soprattutto perché poi in quelli più piccoli non potevo infilare la punta del buca perle per far uscire il pezzetto di pasta polimerica dal lato principale per cui li ho utilizzati per fare dei cerchietti sul cappello poi la stessa cosa l'ho fatta anche sul vestito poi ho utilizzato un pezzetto di pasta polimerica bianca per fare la basetta dell'ognomo e per prendere la misura della base ci ho pigiato sopra il barattolo di vetro e poi ho rifilato leggermente il bordo in modo che questa base poi si andasse a incastrare perfettamente all'interno del barattolo di vetro perché questa base io l'andrò a incollare al centro del tappo di sughero ho pensato che questa base potesse avere un po' l'effetto della neve e quindi sono andata a creare una serie di piccoli puntini con il dotter poi in realtà lo vedrete nel progetto completato la texturizzazione della base non si vede quasi per niente ed è appena poco poco più grande rispetto al corpo dell'ognomo quindi in realtà potete anche lasciarla tranquillamente liscia come vi dicevo prima poi ho decorato anche il vestito dell'ognomo con una serie di puntini e poi ho deciso di aggiungere un ultimissimo dettaglio sul cappello dell'ognomo quindi ho preso la pasta polimerica di colore giallo ne ho steso un pezzettino minuscolo e l'ho tagliato con il mini camper a forma di fiore perché non ho un tagliabiscotti piccolo a stellina quindi poi semplicemente basta prendere il fiorellino andare a pizzicare tutte quante le punte e si riesce a ottenere una stellina piccolissima questa stellina l'ho messa sul cappello e poi ho deciso di aggiungerne anche un'altra sul vestito in basso ho cotto quindi l'ognomo per mezz'ora a circa 125 gradi centigradi e poi l'ho lasciato raffreddare non l'ho avverniciato perché andrò a inserirlo dentro l'acqua quindi comunque l'effetto lucido glielo darà il fatto di essere immerso in acqua e comunque la vernice si sarebbe staccata e all'interno dell'acqua ho messo questo prodotto della fimo che è un chiarificatore per l'acqua e praticamente fa sì che l'acqua all'interno delle bolle in vetro non ingiallisca ed è lo stesso prodotto che avevo utilizzato quando ho fatto gli shakers in resina per l'incollaggio ho utilizzato la colla a caldo perché il zucchero è abbastanza poroso e quindi temevo che il super attack si distaccasse non so che fine farà questa questa colla nel tempo io spero vivamente che che regga attualmente è la prima sfera in vetro che faccio quindi non posso darvi un feedback non posso dirvi se la colla a caldo regge o meno ve lo saprò dire tra qualche mese ho appoggiato quindi la sfera sotto sopra su un contenitore e l'ho riempita con acqua distillata aggiungendo un po di gocce di chiarificatore della fimo e a questo punto ho rimosso un po di acqua in eccesso quando mi sono accorta facendo le prove che praticamente quando andavo a inserire lo gnomo l'acqua tendeva a uscire tutta quanta fuori quando ho raggiunto la quantità di acqua ottimale ho aggiunto appunto il chiarificatore e poi ho iniziato a mettere un po di brillantini questo perché non ho la finta neve e e quindi ho deciso di utilizzare questi glitter tanto ne ho tantissimi e non li utilizzerò neanche mai in tutta la vita per la resina quindi alcuni di questi li utilizzerò per gli shakers in particolare ho messo i brillantini olografici perché sono quelli che fanno più scena ho messo tutte quante le farfalle un po di brillantini a forma di triangolo di rombo un po di brillantini tondi di diverse misure e poi ho messo i brillantini ultra fini di colore rosa e questo però non lo fate perché mi sono resa conto dopo che praticamente questi brillantini rosa tendono ad appiccicarsi su ogni superficie non si spargono bene all'interno dell'acqua o forse c'era bisogno anche di qualche goccettina di olio johnson per fare in modo che viaggiassero in acqua più facilmente quindi niente brillantini ultra fini io vi consiglio di mettere solo i glitter un po più grandi una volta finito di riempire la mia sfera anche con tutti quanti brillantini sono andata ad aggiungere la colla a caldo su tutto il bordo del barattolo in vetro e poi ci ho messo dentro il tappo con l'ognomo e c'è stato un piccolo incidentino perché praticamente il naso dell'ognomo ha strusciato sulla colla a caldo e quindi gli sono rimasti appiccicati un po di brillantini e un paio di farfalle ma facciamo finta che fosse un effetto voluto via comunque fate molta attenzione quando inserite l'ognomo all'interno della sfera poi ho ripreso la colla a caldo e ho iniziato a sigillare tutto quanto il bordo per fare in modo che non fuoriesca l'acqua e quindi spero non fuoriesca neanche in futuro l'unica mia paura è che se cede l'acqua si la colla al di sotto dell'ognomo e poi l'ognomo possa galleggiare all'interno della sfera ma questo lo sapremo solo col tempo comunque ho sigillato con due o tre strati di colla a caldo e l'ultima che ho utilizzato è la colla a caldo con i brillantini azzurri e poi siccome il bordo non mi sembrava abbastanza rifinito sono andata ad aggiungere sempre con la colla a caldo azzurra tutta una serie di bottoni e bottoncini di diverse misure che in realtà mi sono stati regalati nel corso degli anni e ho scelto quelli di colori intonati alla creazione e secondo me così la base è molto più rifinita è molto più carina e ci vogliono veramente tre minuti per applicarli se non trovate dei barattoli come questi o degli altri barattoli o cupole adatte per fare gli snow globe utilizzate tranquillamente i barattoli normali di vetro da cucina certo l'effetto non sarà proprio identico perché quelli hanno forma cilindrica e non sferica però secondo me verranno comunque delle creazioni molto molto carine e la forma sferica è molto divertente perché poi all'interno l'ognomo sembra molto più grande di quello che è in realtà e spero che questo tutorial dell'avvento creativo vi sia piaciuto lasciatemi le domande se ne avete nei commenti fatemi sapere se vi è piaciuto il video condividetelo sui social non dimenticate di iscrivervi al canale e se vi piace quest'evento che ho organizzato per dicembre di quest'anno con l'avvento creativo se volete partecipare ad eventi simili nel corso dell'anno dovete iscrivermi a diana.archidee.gmail.com io adesso vi saluto e ci vediamo domani con il prossimo video dell'avvento creativo ciao 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 ciao